Ragazzi, qua il nuovo video Aspetta, aspetta scusate un attimo perchè vorrei capire che cosa hanno aggiunto English Ovviamente lui fa inglese Facciamo inglese Allora Dopo giocherò un po' io Che modalità fai? Beh, noi sono squadra Io voglio allenare Mettete like, iscrivetevi Iscrivetevi Attivate la campanellina Abbonatevi Non perdete i prossimi video Neanche quelli vecchi Guardate tutti i video Che abbiamo fatto io e mio cugino Dici qualcosa? No Non c'è niente da dire Boh Tutti i magazzini Super Io non ho ancora visto Pic Polare come... Com'è? Io si Ale Che riesce a tappare la finestra? No Riesce tutto soli Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Oh, andiamo subito a Polar Pic Pic Polare Pic Polare Che non lo vedo da tanto picco Nooo, è caduto un castello Quanto mi piaceva Pic Polare? La mia città preferita è il vulcano Hai già detto 36 volte Non so, però non lo finirò mai di dirla Non sono mai morto al vulcano Tranne... La stagione 8 No, stranne la stagione 9 La stagione 10 mai, 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 mai E non morirò mai Che ne so, costruisci un po' quale? Quanto mi metto Cioè, senza castello e niente Non c'è niente Di armi Vabbè, di armi si ce n'è Ma neanche troppo Secondo me queste qui le devo buttare Non sono più tanto bene Cioè, i nuti sono schifo Ma intanto ho anche i nuti che l'ulti un po' Dico che prendi le armi Quanto era bello Il tre colpi Un po' ti vedo La bellissima Il tre colpi Fatti un po' di materiale Ale costruisce Dopo faremo le partite Solo 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 il soletto Fammi il bagnetto Corna in piscina Volevamo fare Un video in piscina Ma non l'abbiamo più fatto Perché c'era troppo solo Poi non si vedeva bene Vero Ale? Volevamo comprare la telecamera Per video qua Non vi dico il posto Però non c'era Io dico a Castellamonte Noi siamo in Italia E abitiamo A Castellamonte volevamo Sai la Ma alla fine non c'era Dovremmo andare Oggi Un altro posto Non so dove Scriveteci dove può essere O al gigante Sapete dove è il gigante Chi lo sa Commentate Arriva Rollo Oggi Vorrei Voglio Vorrei Noi due Vorremmo che mettete Il like Con il piede No Col naso Col naso E Iscrivetevi con Il Mignolo Del piede Va bene Ale? E Attivate la campanellina Con il Con la zampa Con le Con il telefono di un vostro amico No no Basta fare le Telefono dentro il telefono No Con il Con la mano Vai Con il pollice Con il pollice come si fa Mi sa che potrai andare anche a costruire Ale Ma non lo prendo Ma non lo prendo Se adesso vado a costruire Lo farò solo un attimo E vado a farvi una build Dopo la farò anch'io Ma sto a vedere se qualcuno giocano I miei amici No Sono tutti inglesi I miei amici Ma dove ti fai lei mattone? Allora io voglio Io devo ricostruire il castello Poi deciso Costruirò Il castello Farà cagare hoffe In 30 A Po 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 Pu Se Po finito scrivete nei commenti se l'ha fatto bene sto coso ora fai vedere quanto sei bravo tu a costruire dopo vi farò io vedere hai già fatto vedere come costruisci ma tu pure cosa cosa? lag autolag questo sbagliato scusate vabbò non so più questo macchina allora scusate guarda che la stai facendo bene perchè io adesso mi insegnarò una cosa che sapete ovviamente tutti questa il nemico non fatelo mai cosa sta facendo lui scusate cioè scusate cioè il nemico cioè il nemico vi costruisce la scala sopra cioè il nemico vi costruisce sopra adesso lo farò con i miei stessi materiali poi lo trappate così è un po' l'occurità